Torino Galli, lei è il patronus ufficiale della manifestazione Una Ragazza per il Cinema. Si sta facendo molto clamore ultimamente per questo concorso. Si sta facendo molto clamore, mi è piaciuta la tua frase iniziale ufficiale, perché c'è molta gente che ci sta giocando sopra su questo nostro concorso e che cerca indebitamente di appropriarsene in qualsiasi modo, il legale e quindi genera confusione, genera anche delle preoccupazioni insieme a tutte le persone che lavorano per questo concorso da 23 anni. Infatti questa è la ventitressima edizione di questo concorso. Vogliamo ripercornerne le tappe salienti? Sì, il concorso nacque nel 1989 da una mia intuizione, io lavoravo per altri concorsi e ho avuto questa felice idea di andare a registrare Una Ragazza per il Cinema alla Camera di Commercio di Catania e da lì abbiamo fatto la prima edizione con una splendida madrina, Laura Antonelli, che tutti ricordano, poi Franco Zeffirelli l'anno dopo. Abbiamo sempre avuto delle finali di grande fattura, abbiamo avuto sempre degli ospiti di rilevanza eccezionale, abbiamo avuto anche delle partecipanti, ricordo Valerio Marini nel 1990, ma tanta storia, parla del concorso, quali finali fatti a Portorotondo, in Sardegna, a Numana, nelle Marche, in Calabria sette, otto volte, in Sicilia, anche perché il concorso nasce da un siciliano, quindi l'ho sempre fatta tra Sicilia e Calabria. Ricordo anche delle finali fatti a Cefalù, ad Acireale, più volte ad Acireale, che è stata la prima edizione anche nel 1989, ricordo Montepavone, il Calaghena, nel 1996, quindi una storia che non può essere mai messa in dubbio. Le opere dell'ingegno, le opere suscettibili di tutela, come ad esempio un marchio, un brevetto, dovrebbero essere tutelate. Di solito si parla di marchio di fatto, quando il marchio raggiunge una certa popolarità, quindi non c'è nemmeno bisogno di una registrazione. Tuttavia, lei ha provveduto anche a ufficializzare questo concorso con un logo, un marchio, proprio che lo identifica, che lo caratterizza. Sì, appunto, che identifica, hai detto bene tu, proprio il lavoro, quindi un concorso nazionale per aspiranti attrici, modelle e fotomodelle, che tra l'altro, io ho anche ampliato in un'altra registrazione che ho fatta alla Camera di Commercio di Bologna, aggiungendo i settori moda e fotogenia, che hanno caratterizzato negli ultimi anni anche il concorso, e quindi dando modo alle ragazze di entrare anche nel mondo della moda, grazie a Franco Battaglia, che ci segue da vent'anni e che quest'anno sarà anche in giuria, e anche la fotogenia. Abbiamo avuto, mi ricordo, proprio qua vicino, a Capopiccolo, un grande presidente di giuria, che era Bruno Liviero, uno dei migliori fotografi italiani, proprio di moda e di spettacolo. Un marchio che identifica l'oggetto del concorso, di che cosa si tratta? Ovviamente un marchio lecito e meritevole di tutela. Però pare che ci siano diversi soggetti, altre persone, che mi sembra che si appropriino indebitamente di questo marchio. Tant'è vero che lei ha provveduto a sporgere delle querele, delle diffide. Sì, io, come potete vedere, ho anche delle diffide, delle querele fatte alla procura di Catanzaro contro persone ben specificate in merito a questa situazione. Tra l'altro proprio ho denunciato e querelato una persona in specifico che ha cercato di registrare un marchio che era, diciamo, similare, ma che non aveva nessuna identificazione di concorso nazionale. Mi pare di aver capito però che il problema non è soltanto il marchio. Pare che a Monti ci sia un problema ancora più grave. Cioè questo è un concorso ufficiale dove uscirà una ragazza con una fascia di ragazza per il cinema, però pare che ci siano altre fasce in giro, presunte fasce o presunte persone, che cercano di attribuirsi questa cosa che invece è una sua creatura. Sì, in effetti noi abbiamo notizia che la prossima settimana una stessa identica manifestazione finale nazionale a una ragazza per il cinema si dovrebbe svolgere da Cireale. Io ho provveduto con il mio studio legale di Catanzaro a diffidare il comune di Cireale e abbiamo anche detto che li avremmo denunciati per concorso in truffa e salvi le azioni civili per il recupero di danni morali e materiali ingenti, non quantificabili al momento. Senta, questo è un concorso di bellezza, quindi qualche cosa che ha a che fare con l'edonismo, il piacere anche visivo e esteriore. Per lei il fatto che ci siano persone che cercano di emularla o comunque esercitano attività di concorrenza sleale nei confronti di questo concorso è qualcosa che la inorgoglisce, che comunque alimenta il suo narcisismo, che la infestidisce e le crea danni anche sul piano economico, diciamo? È ovvio che sono tutte e due le cose che ci stanno, nel senso che mi crea molto danno perché si genera molta confusione, molta apprezzione da parte degli enti e da parte dei comuni che si ritrovano ad avere due marchi simili per una manifestazione che poi è una. Sì, c'è anche l'altro fatto che mi inorgoglisce, che la gente cerchi di rubare una mia creatura e di copiare o di clonare, ma non riescono perché in effetti non hanno né le capacità, né la passione, né la verità dalla loro parte. Una creatura, un concorso che funziona, oramai sono 23 anni, diamo l'ufficialità, di cui non ce n'è nemmeno bisogno, però vogliamo ribadire ancora una volta ai telespettatori, alle famiglie, alle ragazze che sperano magari di indossare questa fascia, che il concorso ufficiale è questo, quello che ci si terrà alle Castella, la finale, l'edizione targata 2011, il 3 settembre. Tutti gli altri concorsi non godono dell'ufficialità, quindi sono qualche cosa così? Sì, sono delle cose campate in aria, sono delle cose che dovranno rispondere nelle sedi opportune di quello che stanno generando e di quello che stanno combinando. Ribadisco quello che hai detto tu, il 3 settembre dalle Castella uscirà la vera ragazza per il cinema 2011. Sarà premata da Saverio Vallone, è la prima classificata della 23esima edizione del concorso nazionale una ragazza per il cinema moda e fotogenia 2011 qui alle Castella. Grazie a tutti e complimenti, ma i complimenti più grandi vanno alla numero 91 Anna Chiarella della Patria del Bello! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!